4, 2, 2, Race! Per tornare sui circuiti dovrà attendere ancora qualche mese. Intanto Felipe Massa è tornato questa settimana a Maranello a visitare la gestione sportiva Ferrari a quasi due mesi di distanza dal suo incidente in Ungheria. Sono finalmente a casa, ha dichiarato il brasiliano. Questa è la mia seconda famiglia e non vedevo l'ora di riabbracciare e rincontrare tutte le persone con cui collaboro da tanti anni e che mi sono state così vicine in questo periodo. Adesso posso dire davvero che riprendo il mio lavoro, c'è molto da fare ma sono felice, mi piace l'aria di Maranello. Ad accogliere Felipe è stato il direttore sportivo Stefano Domenicali, di ritorno dal weekend del Gran Premio del Giappone a Suzuka. È bello riavere Felipe qui con noi, ha commentato, e sono contento di poterlo riabbracciare. Abbiamo chiamato insieme il presidente Luca di Montezemolo, che era felice di poter salutare Felipe e augurargli buon lavoro, dandosi anche appuntamento nei prossimi giorni. Già oggi faremo alcuni incontri tecnici e soprattutto attività fisica. Felipe deve tornare al top, lo aspetta un periodo impegnativo e di attività costante, ma lui sa che non abbiamo fretta. La prima giornata del brasiliano a Maranello è stata dedicata ai saluti ai membri della squadra, alle risposte ad alcune delle molte email ricevute dai tifosi e alla visita del complesso, comprese le linee di assemblaggio dove si lavora alla nuova 458 Italia. Dell'ultima nata di casa Ferrari, Felipe ha discusso anche con l'amministratore delegato, Amedeo Felisa. Ieri Massa è tornato fisicamente al volante, anche se si è trattato semplicemente del simulatore di Modena. Abbiamo lavorato bene, senza alcun problema, ha detto. Il simulatore utilizza una monoposto di A1 Grand Prix, quindi non è esattamente come una Formula 1, ma ci si avvicina abbastanza. Ho girato sul circuito di Barcellona, tanto per calarmi ancora di più, nell'atmosfera di un test. Dopo una breve seduta in palestra, Massa è tornato al computer per rispondere ad alcuni degli appassionati. Per il ritorno in macchina non è stata ancora fissata una data ufficiale, a dispetto della concessione ottenuta da parte della FIA di poter girare a Fiorano con una F2007 gommata con le coperture della GP2. Secondo quanto si è fatto scappare questo weekend a Suzuka Sir Frank Williams, l'approvazione sarebbe giunta per la giornata del 12 ottobre, lunedì prossimo. L'unica certezza è che non avverrà questa settimana, come confermato anche dalle note ufficiali della Ferrari. E il ritorno in gara? Per questo bisognerà attendere ancora di più, ma forse meno del previsto. La Gazzetta dello Sport, infatti, non esclude una clamorosa partecipazione già al Gran Premio di Abu Dhabi, ultima prova del campionato 2009. 4, 2, 2, 3! 5, 2, 3!